amici della Ced Live eccoci ritrovati nel nostro consueto appuntamento di fine settimana che ci consente un po' di rifare anche il quadro su quanto è accaduto in questa settimana borsistica e lo farò insieme a Claudio Fiorelli che per la prima volta mi farà compagnia quest'oggi ciao Claudio ciao Giovanni un saluto a tutti i nostri ascoltatori ovviamente Claudio fa parte dell'ufficio studi di certificati e derivati allora Claudio insieme eh vorrei un po' parlare di un tema anzi di un'area geografica in realtà che ha visto un po' tornare 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 a essere un po' sotto l'occhio del ciclone questo certamente non da oggi ma da almeno dopo l'estate insomma per diversi motivi tutti i colossi che un po' girano intorno al settore tecnologico cinese hanno vissuto certamente non dei bei momenti in borsa quindi ecco una under performance abbastanza evidente sui titoli cinesi rispetto agli analoghi americani insomma un un'area geografica che sembrerebbe essere particolarmente cheap ma certamente insomma non libera da insidie e lo stiamo vedendo anche eh oggi quello che stanno facendo i mercati azionali in questo venerdì nero diciamo ok Claudio io quindi ti chiedo ecco un focus sulla Cina poi come sempre anche un eh focus e un giro sul nostro chat lab per cercare di individuare e presentare un po' i temi e ehm e quindi anche i certificati che l'ufficio studi di certificati e derivati ha selezionato su questo tema. A te Claudio. Sì Giovanni eh diciamo che eh la la questione cinese non è questione eh recente quantomeno non dei ultimi giorni eh sicuramente sono come come hai ricordato tu benissimo eh sono almeno due tre mesi che eh le performance delle principali stock cinesi stanno eh risentendo anche di un contesto macroeconomico eh complesso e difficile per la Cina eh che è guidato chiaramente da diversi fattori che adesso andremo ad analizzare e però volevo mostrarti come eh prima cosa un grafico su su Bloomberg che eh riguarda l'andamento eh del del prodotto interno lordo cinese che ha subito una eh una recente eh diminuzione di crescita quindi la crescita del prodotto interno lordo cinese ha avuto un rallentamento dal secondo trimestre del duemilaventuno al terzo trimestre del duemilaventuno rallentando appunto dal sette virgola nove per cento al quattro virgola nove per cento segno chiaramente di una certa debolezza eh del del della Cina tra i segnali che eh tra i fattori anzi che hanno causato eh questo rallentamento nell'economia cinese c'è certamente la eh famosa bolla immobiliare che ha colpito principalmente il colosso eh Evergrande che è attualmente sul loro del default come tra l'altro eh faccio vedere tramite questa schermata di Bloomberg testimoniano i rating assegnati alla società dalle maggiori eh compagnie di rating tra quali tra i quali Moody's che assegna un rating a lungo termine CA e eh Standard Standard & Poor's che assegna un rating doppia C e Fitch che invece assegna un rating C che sono eh chiaramente tutti rating che eh denotano una situazione debitoria eh vicina al al default oltre alla situazione Evergrande eh ci sono altri due grossi fattori che hanno eh pesato sull'economia sull'economia cinese tra i quali la eh le restrizioni eh imposte dal governo cinese alle big tech nel tentativo di cercare di eh appunto arginare il potere che eh tali aziende hanno hanno costruito nel corso degli anni e addirittura il governo cinese eh è arrivato ad imporre un limite a a di bambi ai bambini per il gioco online consentendo appunto ai bambini cinesi di giocare eh a videogiochi non più di eh tre ore a settimana e un altro limite imposto dal dal governo cinese alle big tech invece eh riguarda eh gli algoritmi che eh vengono utilizzati per proporre ai ai consumatori durante la loro navigazione online eh l'acquisto di prodotti o particolarmente costosi o contrario al buon costume secondo il governo cinese chiaramente la Cina essendo un paese ehm non propriamente democratico può permettersi di imporre ai propri giganti tech tali eh tali limitazioni che chiaramente eh hanno hanno pesato sulle sulle performance delle delle maggiori aziende cinesi come andremo a vedere ehm fattore più recente che invece ha colpito pesantemente l'economia cinese è quello della crisi energetica e anche qui posso mostrare un grafico che mostra appunto lo lo spike che c'è stato sul prezzo del carbone altro fattore fondamentale che ha impattato sull'economia cinese è stato eh come come mostro da questo grafico la eh crisi energetica che ha eh colpito duramente eh l'intero territorio cinese crisi energetica che è stata dovuta in parte in buona parte all'aumento del del prezzo del carbone che eh attualmente eh impatta la la fornitura energetica eh nel nel cinese il carbone come si vede da questo grafico ha ha avuto uno spike di prezzo molto significativo nella prima metà di ottobre eh arrivando a ritoccare diverse volte però i massimi storici eh tale spike è stato poi eh parzialmente riassorbito eh a seguito di un ampliamento dell'offerta di carbone che ha fatto eh scendere il prezzo che rimane però attualmente molto al di sopra dei dei livelli storici e passati eh tale aumento del prezzo del carbone ha chiaramente impattato sulla produzione energetica cinese eh eh facendo sì che eh i produttori di energia elettrica tramite le centrali a carbone non fossero più incentivati a produrre e rivendere energia elettrica per il cap che eh era eh imposto appunto ai produttori sul costo dell'energia elettrica eh da eh verso verso i consumatori tale cap è stato poi eh rimosso dal dal governo cinese per tentare di alleviare appunto tale tale crisi energetica che adesso si sta eh leggermente risolvendo ma che comunque ha costretto la Cina a dei eh razionamenti eh dell'energia elettrica in in tutte le regioni del paese addirittura a delle riduzioni della 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 produzione. Eh tale rallentamento eh dell'economia cinese ha chiaramente impattato eh sulle eh sulle big tech e eh a testimonianza di di ciò ci sono i eh i recenti eh risultati che sono stati riportati eh dalle principali eh compagnie cinesi. Tale rallentamento della eh crescita cinese ha chiaramente impattato sui conti delle principali società ehm cinesi e tra le quali eh possiamo riportare eh Alibaba che ha visto nel terzo trimestre del duemilaventuno eh mancare le stime degli analisti in termini di eh EPS e oltretutto ehm i eh il management della società ha ritoccato a ribasso la guidance per i mesi successivi per la crescita attesa dei ricavi nei eh prossimi mesi crescita che passa dal ventinove per cento atteso ad un range tra il venti e il ventitré per cento ma come Alibaba ci sono altri big tech cinesi che sono andati eh chiaramente in difficoltà tra i quali c'è i Kiwi che ehm che da molti è indicata come la Netflix cinese che ha visto il proprio earnings earnings per share eh mancare le previsioni degli analisti che eh avevano previsto eh trentatré centesimi eh di dollaro di di perdita eh i Kiwi che invece ha riportato ben due dollari e diciassette di eh perdita eh per ogni azione. Diciamo guarda Claudio ehm questi sottostanti magari erano anche utilizzati no? In diversi diversi come diversi sottostanti a diversi certificati proprio perché avevano la possibilità di far monetizzare in maniera un po' diversa e forse anche più utile all'investitore e la volatilità quindi in realtà ecco gli approfondimenti su questo tema sono sempre opportuni perché in realtà titoli eh come già quelli che hai citato tu quindi scusate Baidu eh possiamo aggiungere Baidu, Tencent, eh JD, eh oltre ovviamente hai già citato Alibaba e Kiwi insomma mh poi anche c'è la stessa Nio eh che che potremmo potremmo inserire in questo paniere insomma ecco quindi sono tutti titoli che in realtà la maggior parte non ha vissuto bei momenti sul rilascio delle trimestrali ecco quindi questo un po' in in forma generalizzata ecco anche il motivo per cui eh in un contesto dove anche la volatilità di mercato torna a salire già eh così di 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 default suo eh sarebbe opportuno ecco cercare di individuare alcuni alcuni sottostanti specifici e alcuni certificati che potrebbero essere utilizzati anche eh come switch to recovery e credo che ce ne sono anche un paio. Ora eh so che l'hai preparato quindi anche su Bloomberg se mettiamo un grafico che fa vedere anche le performance di questi sottostanti ecco magari lo lo possiamo lo possiamo analizzare ecco quindi eh chi c'è rimasto un territorio positivo? Giusto JD mi pare no? Esatto JD è un po' l'eccezione positiva di questa carrellata di eh under performance in Cina eh JD che tra l'altro tra le compagnie che hai citato è stata l'unica a riportare dei dei ricavi non solo in crescita ma al di sopra delle delle aspettative degli analisti e eh JD tra l'altro è una è il più grande marketplace eh B2C eh presente in Cina che eh ha la sua forza nella sua rete di logistica e eh quindi di eh di magazzini e eh di di spedizioni che consente appunto alla società di effettuare spedizioni nel territorio cinese eh in uno o due giorni massimo addirittura il novanta per cento delle consegne di JD sono effettuate nell'arco di massimo due giorni dalla eh appunto dall'ordine da parte del consumatore e eh la società è eh molto interessante tra l'altro perché è l'unica società che eh consente ai ai consumatori cinesi di eh acquistare beni eh sul mercato internazionale eh quindi bene di importazione da eh da mercati esteri e infatti come dall'altra parte che abbiamo mi pare i kiwi giusto? Esatto come worst off c'è i kiwi che eh nell'ultimo anno ha perso addirittura il settanta per cento della propria capitalizzazione e eh della linea blu che vediamo eh poco meglio ha fatto Alibaba che comunque ha subito una performance negativa nell'ultimo anno del meno cinquanta per cento eh leggermente meglio hanno fatto Tencent e Nio che comunque hanno subito una performance negativa del venti per cento unica in territorio positivo seppur di poco è eh come detto JD che che ha guadagnato un un per cento rispetto al al prezzo di eh di un anno fa quindi chiaramente eh il mercato cinese ha risentito di storni pesanti c'è chiaramente eh l'eccezione positiva ma eh ovviamente il il rimbalzo esatto un'eccezione positiva in senso anche limitato eh chiaramente il rimbalzo di questo mercato è ancora tutto da da vedere ok Claudio quindi ti chiedo adesso una panoramica facendoci un giro sul CEDLAB che andiamo a analizzare insieme qualche qualche prodotto sì sì Giovanni partiamo innanzitutto da eh un prodotto eh emesso da Vontobel nel settembre del duemilaventuno che ha eh facciamo ecco vedere l'ISIN che ha come sottostanti come detto i Kiwi, Alibaba e eh Nio eh tale prodotto consente di eh monetizzare appunto la volatilità che eh ho mostrato precedentemente esserci stata nell'ultimo anno su questi titoli garantendo delle eh pagando delle cedole trimestrali del sette virgola due per cento e eh su cui è presente anche l'effetto memoria. Eh questo prodotto a scadenza quindici dicembre duemilaventidue e eh quindi ha un orizzonte temporale anche abbastanza breve e eh consente in un in uno scenario di lateralità di eh portare a casa un rendimento annuo del cinquantatré virgola settantanove per cento chiaramente alla tenuta della barriera di eh di questi tre titoli che come detto hanno già subito comunque dei degli stori abbastanza pesanti per cui per l'investitore con comunque un grado di rischio elevato che ehm voglia chiaramente eh puntare sulla ripresa di questi tre sottostanti eh chiaramente questa è un'ottima alternativa eh rischio rendimento eh tra l'altro come vediamo i due sottostanti più in difficoltà sono i Kiwi e Alibaba mentre Nio è eh al momento al di sopra dello strike. Eh ultima osservazione ehm questo strumento presenta inoltre una eh un trigger autocollable che eh si attiverà a partire da eh dal marzo duemilaventidue nel caso in cui tutti i titoli eh rilevino al di sopra del del cento per cento. Eh seconda alternativa sempre casa Vontobel che eh sostanzialmente un'alternativa gemella della eh della precedente per sottostanti eh è invece questo Express che si acquista a un prezzo lettera di settantanue virgola ottanta euro con scadenza anch'esso settembre duemilaventidue e i sottostanti sono sempre i Kiwi, Alibaba e Nio. In questo caso non c'è un pagamento trimestrale di cedole ma vi è un un maxipremio eh finale che eh si andrebbe a ricevere qualora tutti i titoli chiudano al di sopra del novantadue per cento dei propri strike price. Quindi chiaramente il tale maxipremio del dodici punto cinque per cento trimestrale si va chiaramente accumulare nel caso in cui eh i tre sottostanti non rispettino le condizioni per l'autocoll anticipato fino ad arrivare ad un cinquanta per cento eh a settembre del duemilaventidue che verrà pagato nel caso in cui tutti i titoli eh rilevino al di sopra della propria barriera e eh passiamo avanti andiamo su un prodotto eh in questo caso leggermente meno aggressivo dei due precedenti parliamo di un Phoenix memory maxi coupon eh emesso da Societe Generale e eh acquistabile sul CertX ad un prezzo lettera di novantotto punto novantacinque euro ehm tale tale strumento presenta una durata di eh tre anni e una maxi cedola eh una maxi cedola iniziale del dieci per cento incondizionata tra l'altro e successivamente un un premio binestrale dello zero virgola sette per cento e tale tale strumento è scritto su un basket ehm un basket eh formato da titoli cinesi cioè Alibaba e JD e in questo caso c'è anche un titolo americano che è eh Shopify e eh guardando le performance diciamo che per il momento si guarda ad Alibaba ecco esatto esatto che è chiaramente largamente il worst off di eh di tale di tale basket quindi chiaramente eh guardiamo maggiormente ad Alibaba eh per per questo basket e l'analisi di scenario in questo caso ci fa vedere come le barriere di di tale strumento siano ancora molto profonde addirittura c'è un buffer barriere del quarantatré per cento e eh nonostante ciò il lo strumento pagherebbe a scadenza eh una performance del dell'otto punto zero quattro per cento in eh annualizzata e eh importante anche in questo caso eh c'è l'effetto memoria sulle eh sulle cedole successive alla alla maxi cedola iniziale eh quarto ed ultimo strumento anche questo eh leggermente meno spinto dei primi due è un Phoenix Memory eh emesso da Goldman Sachs e eh scritto su un sottostante un sottostante un sottostante unico che è anche in questo caso Alibaba che eh quota in questo momento ottantacinque virgola cinquantacinque euro ed è acquistabile sul CertX eh ha una scadenza leggermente più lunga eh del del precedente infatti la eh ha una durata di cinque anni e eh paga in questo caso cedole semestrali del due virgola seicento settantacinque per cento eh sul come detto sul singolo sottostante Alibaba. L'analisi di scenario di eh tale prodotto è possibile osservare come eh appunto lo strumento riesca in in condizione di lateralità del del prezzo di Alibaba a eh garantire un rendimento annuo di circa il dieci per cento a fronte anche di un di un massimo ribasso del titolo fino al ventiquattro per cento. Chiaramente questa eh è un'alternativa leggermente più eh difensiva delle di quelle mostrate in precedenza perché è scritta su su un unico sottostante. Ok Claudio io credo che abbiamo fatto un quadro generale anche su varie tipologie anche di payoff quindi abbiamo visto certificati eh classici eh a premi periodici abbiamo visto anche express e abbiamo visto anche alcuni sottostanti quindi non solo Alibaba che magari ecco è il big tech per eccellenza sul mercato cinese ma anche orientati su altre tipologie di sottostanti in particolar modo i kiwi che insomma non so qual è la tua impressione però diciamo che i prezzi almeno guardando al passato sono sono un po' più cheap rispetto rispetto magari a inizio duemilaventuno no? Quello quello sicuramente eh ok Claudio quindi no ti ringrazio ecco è il tuo esordio mi farai compagnia anche in seguito quindi ti ringrazio della tua partecipazione. Grazie a te e grazie a tutti i nostri spettatori. Ok amici non mi resta quindi altro che augurarvi un buon weekend e un buon proseguimento di trading a tutti noi come sempre ci vediamo settimana prossima ciao Ciao a tutti i nostri spettatori